Un saluto per ritrovati come state, vi invito come sempre a scrivervi sul LogoAL, commentate numerosi qui sotto, buona domenica, tra poco inizia la domenica di calcio con i Milan che scendono in campo in casa col Sassuolo, squadre entrambe in difficoltà. Succede però che a Roma, come immaginabile, pronti via c'è subito una dura contestazione nei confronti di Nicolò Zagnolo nella notte successiva alla dura esternazione di Giuseppe Mourinho che di fatto ha messo il popolo gelorosso contro Zagnolo. Situazione difficile anche a livello ambientale, la Roma non so se ha come obiettivo quello di far cambiare idea a Zagnolo in queste ore e di fargli accettare il Bormant oppure non so dove possa portare questa strategia se non ad epauperare comunque il valore di Zagnolo sul mercato anche per la prossima estate. Di fatto, come era immaginabile, quelle dichiarazioni hanno fomentato tanti tifosi giallorossi con questo striscione che è stato esposto davanti al Colosseo, quindi un luogo simbolico per eccellenza in quel di Roma ed è l'inizio di una frattura a che cosa porterà non lo sappiamo. La Roma potrebbe anche metterlo fuori Rosa, ora o lui accetta il Bormant oppure la Roma accetta la proposta del Milano oppure resta lì e saranno sei mesi da separato in casa incandescenti, complicati anche da un punto di vista di vita extracampo per quello che ieri ha fatto Mourinho. Mourinho secondo me c'è modo in modo di dire le cose, di gestire i casi così secondo me renderà purtroppo difficile la sua vita a Roma, mischiare il calcio all'extracampo secondo me è sempre pericoloso. Vediamo che cosa succede, lo striscione non ve lo leggo, è molto offensivo nei confronti di Zagnolo con la Roma, i romani si che si sentono traditi. Ditemi che cosa ne pensate e come finirà secondo voi questa telenovela, secondo me Mourinho ha sbagliato così come avevo detto lo stesso per Kasdorp, bisogna capire che oltre ai calciatori lì sono anche uomini fuori, secondo me ha sbagliato ripeto. Voglio sentire il vostro parere qui sotto, commentate, lasciate un like e iscrivetevi qui sul logo L. Buona domenica e buone partite, ciao!